La maledizione di Norris è finalmente spezzata! Ha chiuso in testa il primo giro partendo dalla Paul in una gara talmente noiosa che lo sessolando si è addormentato tirando la muro. Eppure ci sono tante cose da dire. Verstappen che litiga con la FIA, la Ferrari il suo sabato da incubo e poi Daniel Ricciardo che ha corso la sua ultima gara, colapinto in grande spolvero. Insomma, come sempre un po' Gipirichissimo, partiamo subito con il Nasca Assunto. Le squadre si spostano direttamente da Baku a Singapore e al giovedì tengono manco tre argomenti. Primo, le parolacce. Secondo, il futuro di Daniel Ricciardo. Torneremo su entrambi perché sono troppo lunghi per il Nasca Assunto. Terzo argomento, l'ala posteriore della McLaren. La FIA ammette che sta indagando sul comportamento dell'ala da basso carico che montava la McLaren a Baku. Perché? Per il modo in cui flette alle alte velocità creando una sorta di mini DRS, ne abbiamo parlato nello scorso post GP. Insomma, tempo neanche 24 ore e le indagini finiscono. In sostanza, la FIA avrebbe spinto McLaren a organizzarsi per correggere il problema entro Austin. Quel movimento non è che vada proprio d'accordo con il regolamento. Anche se in realtà la MCL38 ha superato tutte le verifiche. La McLaren quindi è costretta ad accettare la decisione ma tenta di minimizzarla tramite la stampa. Insomma, passiamo all'attività di pista che come sempre a Singapore è spettacolare. Muretti vicini, scintille, luci, la notte. Al venerdì vanno fortissimi in due. Lando e Charles che si scambiano il primo e il secondo posto nelle sessioni di libera. Sono veloci sul giro secco e sul passo gara. Mentre invece i loro compagni di squadra, Sainz e Piastri, faticano un po' di più. Crisi nera invece per Red Bull e Mercedes. Verstappen quindicesimo, Hamilton poco più avanti. Le due macchine non hanno grip e gli ingegneri sono costretti a inventarsi qualcosa per il sabato. Qualcosa effettivamente arriva e nelle libere tre Russell è secondo e Verstappen quarto. Entrambi contenti delle modifiche all'assetto fatte durante la notte. Chi vola invece è Lando Norris. Primo con mezzo secondo sul secondo. Inafanno invece le due Ferrari che non trovano il grip giusto nella simulazione di qualifica con gomme soft. La qualifica di Singapore è uno dei momenti più intensi e spettacolari dell'intera stagione. In Q1 escono le due Sauber, ormai abbonate al fondo della griglia, poi Gasly, Stroll e Ricciardo, tutti degli udenti. In Q2 invece la sorpresa re... Sorpresa... Negativa è Sergio Perez, solo tredicesimo. Mentre le due Williams arrivano tanto così dal Q3. Q3 che inizia con il botto, nel vero senso della parola. Sainz ancora prima di lanciarsi va a sbattere all'ultima curva. Gli unici da aver fatto il tempo sono Piastri e Hulkenberg. Bandiera rossa. Con Verstappen che avrebbe anche lui fatto il tempo ma l'ha fatto passando di fianco all'incidente quindi gli tolgono il tempo. Si riparte e così hanno tutti un solo tentativo. Norris mette insieme un giro così e così che comunque basta per l'Apollo. Lo seguono Verstappen, le due Mercedes e Piastri solo quinto. Sesto un super Nico Hulkenberg, poi Alonso, Zunoda. Solamente nonno Charles Leclerc a cui viene cancellato un tempo che comunque era più lento di quello della Haas. Torniamo comunque sulla qualifica Ferrari nel Nascatec. Capitolo gara. A Singapore la strategia solo una sosta è obbligata perché per fare la sosta ci vogliono 28 secondi e quindi conviene farne una. Tra i primi dieci l'unico che non parte con le medie è Lewis Hamilton che spera di guadagnare qualcosa in partenza mettendole soft. Ma con un Norris in pole position i dilemmi della McLaren sono due. Primo, azzeccare la partenza. Secondo, decidere come gestire la gara. Sì, perché a Singapore negli ultimi anni il leader ha quasi sempre provato a mantenere compatto il gruppo girando addirittura più piano del solito. Perché? Perché tanto a Singapore non si passa ma soprattutto chi si trova dietro di lui non potrebbe fare l'undercut perché così facendo rientrarebbe in pista in mezzo al traffico e quindi non gli conviene. Da quest'anno però la FIA ha giunto una quarta zona di RS aumentando così i sorpassi. E quindi prima della gara tanti si chiedono se Norris vorrà spingere oppure no. Ecco, prima però deve partire bene. E incredibilmente succede proprio questo. Maledizione spezzata Norris parte bene e si mette in testa. E a questo punto scopre le carte inizia a tirare come un pazzo guadagnando 20 secondi su Verstappen prima della sosta. Pensate, il vantaggio che ha è talmente grosso che Norris a un certo punto arriva a rilassarsi sbagliare una staccata bloccare le gomme e fare un bacetto alle barriere. Miracolato a non aver spaccato. O meglio, qualcosa spaccato piccolo danno solo all'anteriore. Nulla di grave lo richiamano i box sosta e il secondo stint diventa una passeggiata nella quale fa in realtà un altro errore toccando le barriere proprio dove Russell l'anno scorso era esploso. Miracolato ancora una volta porta la macchina a casa e vince una gara stratosferica. Dietro di lui secondo Verstappen che controlla senza troppi problemi l'arrivo di Piastri. Certo, la corsa di Oscar è un po' deludente visto quello che ha fatto Norris però considerando che partiva quinto e ha avuto le Mercedes davanti tutto il tempo ha fatto il massimo che poteva fare. Bene la gara di Leclerc e Sainz è stata una gara frustrante. Carlos perde due posizioni in partenza e si trova per tutto il primo stint dodicesimo bloccato dietro a Tsunoda. Per toglierlo di lì lo chiamano i box prestissimo facendogli fare un extra mega giga undercut su tutto il gruppo centrale al punto che da dodicesimo chiuderà la gara settimo. Peccato che però alla fine non c'era più gomma. Leclerc invece si trova bloccato tantissimo tempo dietro Alonso e Hülkenberg. Quando finalmente ha un po' di area libera Char allunga lo stint con le medie tiene dietro un'assel che ha fatto già il pit stop rientra in box poco dopo alla McLaren e con le hard vola. Supera prima Alonso poi Sainz gira due secondi al giro più forte di Hamilton anche lui è box prestissimo per togliere il soft. Leclerc supera Lewis senza problemi e si mette a caccia di Russell a cui recupera un pit stop pieno mostruoso. Lo attacca nel finale ma Russell si difende bene e la Ferrari non ha più la trazione che le serve per fare il sorpasso. Ancora più indietro bravissimi Alonso e Hülkenberg arrivati a punti tragico Peretz solo decimo impantanato dietro l'ass per più di metà gara. Questa è la top 10 bravissima anche con la Pinto che arriva un dicesimo a un pelo dalla zona punti. Bene passiamo adesso ai top e i flop del Gran Premio di Singapore. Tra i top in realtà c'è un top extra che non è solo per questa gara ma è ormai un top per me da mesi ovvero tra il Republic e voglio proprio farvi vedere come sta andando l'app. Sì perché non è solo lo sponsor del video ma lo uso veramente personalmente perché se sponsorizzo un prodotto lo faccio perché è valido e perché così posso anche raccontarvi la mia esperienza da utente in prima persona. Allora il conto che utilizzo è lo stesso che utilizzereste voi identico scusate se in lingua inglese ma io tutti i dispositivi che ho li tengo in inglese per comodità ovviamente c'è anche in italiano. Ora se andiamo su cash si può vedere la liquidità che ho sul conto che funziona esattamente come un conto di deposito svincolato ecco io praticamente ho preso la maggior parte dei soldi che avevo sul conto italiano che mi servono per la spesa le emergenze le cose insomma e l'ho messa quasi tutta qua sopra perché? Eh perché il conto italiano mi paga zero per tenere i soldi lì mentre questo mi paga il 3,5% lordo all'anno sui soldi che ho fermi sul conto e guardate qua se andiamo sotto la voce interest se andiamo qui sotto vedete ti calcola la giacenza media del mese quindi se tu tieni per metà mese 50.000 euro e per metà mese zero la giacenza media è 25.000 e su di quella ti calcola l'interesse pensate che roba oggi che sto registrando il video è il 22 settembre e ho già accumulato 103,73 euro di interessi solo in questo mese e questi soldi che accumuli all'inizio del mese successivo te li accredita direttamente sul conto vedete primo settembre interest del mese di agosto 91,21 euro che figata come c'è scritto sul loro sito è un conto europeo e quindi tutti i soldi sul conto sono legalmente protetti fino a 100.000 euro ma non solo sulle spese che faccio direttamente con la carta che le scala direttamente da qui quindi senza dover ricaricare la carta ho addirittura il saveback dell'1% che viene reinvestito automaticamente su un piano d'accumulo in questo caso ho scelto l'SP500 ma ognuno può scegliere quello che vuole per chi vuole poi c'è anche la funzione di investimenti che si ottiene cliccando qui mi sta andando discretamente bene come vedete ho iniziato a investire da agosto siamo a un più 7% non vi voglio far vedere nel dettaglio le azioni perché non sono un consulente finanziario voglio attribuire questo risultato semplicemente alla fortuna e non voglio che le mie operazioni siano prese come esempio perché non lo sono comunque non so cerchiamo un'azione dai Ferrari come vedete l'interfaccia è semplice graficamente intuitiva essenziale ci sono migliaia di etf azioni e piani d'accumulo mi raccomando investire comporta rischi se volete farlo fatevi aiutare da un consulente finanziario ok ma quanto costa il conto la carta se lo fai virtuale gratuito se lo fai con la carta fisica base 5 euro una sola volta e se lo fai con la carta bella quella di metallo 50 euro una sola volta prelevi gratuiti limitati in tutto il mondo a partire da 100 euro commissioni solo sulla compra vendita di titoli mentre i piani d'accumulo sono sempre gratuiti per il resto il conto è gratis anzi ti pagano pure gli interessi per tenere i soldi lì tutte le info le trovate qui sotto nel link in descrizione bene parlando di formula 1 vediamo i top di questo weekend primo top lando norris norris ha stradominato il weekend di singapore c'è poco da dire una volta che leclerc era fuori dai giochi nessuno poteva attaccarlo e qui si è visto qualcosa che succede molto raramente il leader che va così tanto forte e ha così tanto vantaggio che a un certo punto cala la concentrazione sbaglia e rischia di schiantarsi gli è andata di lusso e quella cosa la capisco perché mi succedeva tanto a 18 anni quando facevo le gare al simulatore mi ricordo una gara dove ero primo con 40 secondi di vantaggio mi son distratto l'ho schiantata e ho perso la gara ecco su norris in realtà ho un piccolo appunto forse spingere a fuoco nelle libere 3 e dare mezzo secondo a tutti non è forse il modo migliore per approcciare le qualifiche scopri le carte ti metti addosso pressione ora tutte queste cose sono piccoli dettagli perché norris a singapore è stato mostruoso e finalmente ha spezzato la malizia della partenza bravo norris secondo top del weekend seppur non da vincitore max verstappen sì perché purtroppo perlando insieme a lui corre un certo max verstappen e per adesso parliamo solo della pista il resto lo vediamo dopo verstappen a singapore è stato perfetto non poteva fare di più nelle libere la red bull non andava in qualifica poi ha ritrovato equilibrio e max non ha mai sbagliato poi per carità con le ferrari messe bene e piastri a posto magari avrebbe chiuso quinto però le ipotesi non bastano max ha chiuso il secondo e questo è quello che conta soprattutto in una pista che spaventava tantissimo la red bull terzo top del weekend condiviso da ulkenberg e colapinto sì condiviso perché non potevo non parlarvi di colapinto prima però vediamo ulkenberg super qualifica sesto gara di altissimo livello perché alonso e perez erano più veloci di lui ma alonso l'ha passato di strategia mentre perez non l'ha passato davvero bravissimo due punti importantissimi per la classifica per l'ass quanto a franco colapinto beh inutile dirlo ha un'altra stoffa rispetto a sergeant come ti ha ricordato questa grafica che l'ha toccata proprio piano che dire colapinto in qualifica va forte in gara fa una partenza monstruosa e ne passa tra in staccata e curva 1 chiude vicino a Perez che cosa gli vuoi dire di più? eh si potrebbe dire che se lo mettessero al posto di Perez farebbe una figura molto migliore passiamo adesso ai flop primo flop del weekend Lance Stroll ancora una volta un flop di Lance Stroll perché lui e l'Aston Martin vanno in crisi a Singapore anzi la sua Aston Martin assetto sbagliato crisi di gomme Lance è fuori in Q1 disperso in gara mentre invece Alonso chiude ottavo in piena zona punti vincendo la gara di tutti gli altri eh allora va bene che ormai l'Aston è una vettura da centro group ma Stroll sta veramente facendo tanta fatica secondo flop del weekend Sergio Perez quando prendi un minuto dal tuo compagno di squadra senza incidenti no non non bisogna aggiungere altro ok per cieco questa è la normalità e già questo è abbastanza grave e poi vabbè ha passato tutta la gara dietro con la Pinto e Hülkenberg non ha neanche potuto bere in gara per un problema e questa a Singapore è una vera tortura tutto vero ma in qualifica poteva bere e si è qualificato tredicesimo terzo flop del weekend a malincuore Daniel Ricciardo stringe il cuore a vedere quell'intervista di Dani dopo la gara dove si emoziona quasi piange non gli escono le parole già da metà settimana scorsa circolavano delle voci su Daniel sì perché a quanto pare il contratto di Lawson obbliga Red Bull a confermarlo entro il 30 settembre altrimenti lui è libero di fare quello che vuole non si capisce però se Lawson debba già salire in macchina da dopo il 30 settembre oppure se si parlerà del 2025 fatto sta che Marco e Horner avrebbero deciso di promuoverlo già da Austin il motivo è semplice Ricciardo ha ottenuto il volante della Vicarb solo per dimostrare di poter sostituire Perez e il Red Bull Tani è andato troppo piano e quindi lascia spazio a Lawson anche per capire se potrà essere Lawson a sostituire Perez capite quindi che di fronte a una notizia del genere Daniel ha corso a Singapore con un grande peso sulle spalle e questo peso non l'ha retto male in qualifica malissimo in gara peccato che la carriera finisca così avrebbe meritato di essere festeggiato ad Abu Dhabi in fondo se ci pensate è stato un campione tra i piloti più forti al mondo quando andava forte il problema è che quando andava piano andava molto piano Nazca Junior a Singapore ha corso solo alla Formula 1 Academy domino assoluto di Abbey Pulling dal vivaio al pin prima nelle libere nelle due qualifiche nelle due gare molto buono il weekend di Maya Voic dell'Accademia Ferrari due volte seconda con Dory & Pin dell'Accademia Mercedes terzo passiamo adesso al Nazca Tech interamente dedicato alla Ferrari primo aspetto all'anteriore nuova nuovo disegno dei flap con l'interno più carico e l'esterno meno così da favorire la spinta verso l'esterno delle turbolenze della ruota anteriore l'effetto outwash nuovi anche i riccioli di congiunzione tra i flap e l'apparati laterale e attenzione perché l'ala anteriore è un componente molto importante perché è il primo componente della macchina che colpisce l'aria e quindi tutti i componenti che stanno dietro risentono di quello che fa l'ala anteriore secondo aspetto del Nazca Tech le qualifiche vediamo di capire che cosa hanno combinato a Singapore la Ferrari è molto veloce l'eclerca al passo di Norris per tutto il venerdì al sabato invece le Ferrari si perdono già dalle libere ora iniziamo due considerazioni l'umidità e non scherzo no perché in Formula 1 i distacchi ormai sono talmente ravvicinati che conta tutto devi sfruttare sempre le gomme al massimo e non contano più solo temperature e pressione ma anche umidità Singapore è umidissima lo sanno tutti e vi ricordate dove altro c'era tanta umidità? Montreal e come è andata la Ferrari con la gestione soft a Montreal? uno schifo o poi magari solo una coincidenza seconda considerazione al venerdì la Ferrari va forte con le soft però al venerdì si gira con più benzina il che aiuta a scaldare le gomme e si scende in pista per due o tre tentativi di seguito quindi si va più fatica a capire se hai più difficoltà a scaldare le gomme questo si riesce a capire meglio il sabato quando togli benzina e simuli la qualifica nelle libere tre bene a Singapore la Ferrari capisce proprio nelle libere tre che farà fatica a scaldare le gomme la pista poi è stata lavata dal temporale c'è meno grip c'è umidità insomma serve lavorarci un po' su anche perché lo abbiamo visto tante volte quest'anno la SF24 è fortissima in gara ma in qualifica fatica a estrarre il picco di grip dalle soft bene arriviamo in qualifica e almeno nel lato del box di Leclerc capiscono che cosa fare sì perché in Q2 dopo un giro conservativo Leclerc segna 29,7 tempo che sarebbe bastato per un terzo posto in griglia di partenza Char quindi è pronto a sparare magari la pole nel Q3 Sainz e Leclerc escono per il primo tentativo escono per ultimo Sainz farà freddare tanto le gomme deve lasciar passare i piastri spinge troppo fuori traiettoria becca un bump pom nel muro ancora prima di iniziare il giro è un errore pesante per un pilota di Formula 1 però in quelle condizioni succede bandiera rossa Leclerc perde il primo tentativo con gomma nuova ma non finisce qui il casino perché durante la bandiera rossa c'è un problema con il cavo elettrico che alimenta la termocoperta anteriore sinistra di Leclerc il cavo viene sostituito tolgono la termocoperta a 4 minuti e 36 dalla fine fanno scendere la macchina a cavalletti appoggiano sopra la termocoperta Leclerc esce dal box e si trova davanti Alonso e Hülkenberg si ferma in pit lane esce dalla pit lane a 3.10 in pratica un minuto e 26 dopo che ha tolto le termocoperte Leclerc si ritrova con gomme anteriori più fredde di 10 gradi rispetto al previsto nell'outlap così spinge tanto e che cosa succede che arriva all'inizio del giro con le gomme fuori finestra davanti troppo fredde dietro troppo calde quindi sbaglia la prima curva finisce lungo va fuori pista surriscalda le gomme e si trova a settimo dietro l'ass ma avendo tagliato la pista tempo cancellato che disastro quindi di chi è la colpa direi proprio di tutti di Sainz che l'ha tirata nel muro della termocoperta stronza che non ha funzionato non posso più dire stronza ci arriveremo dopo su questo del timing di uscita di Leclerc nel senso che se sai che fatichi a mettere in temperatura le gomme e il tuo compagno squadra la tirata nel muro forse è meglio uscire per primi e non rischiare di perdere tempo colpa anche di Leclerc stesso cioè hai avuto un problema nel scaldare le gomme fai curva 1 un po' più conservativo magari non fai la pole magari parti terzo ma no 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 ok ma allora perché dopo tutto questo casino si aprivano i social la domenica mattina e sembrava che la Ferrari avesse sabotato Leclerc perché un'opinione che abbiamo sviluppato è quella che forse Vasseur sarebbe meglio se parlasse a microfoni qualche ora dopo le qualifiche non il giorno dopo se ci pensate questa cosa lo faceva anche Jean Todt ai tempi di Schumacher altrimenti nella concitazione del momento sembra quasi che Vasseur voglia dare la colpa ai piloti quando magari in realtà vuole solo far capire che ci sono tante cause da mettere insieme quando tutto va storto anche perché diciamoci la verità Leclerc che la domenica si prende la responsabilità di tutte le qualifiche in tutte le interviste come a scusarsi di non aver sottolineato al sabato il proprio errore aver parlato solo di temperature boh cioè nel senso Charles sicuramente fa una bellissima figura ma non si capisce se lo dica davvero o se gli sia stato suggerito di dirlo quindi la morale qual è che la Ferrari a Singapore aveva la possibilità di giocarsi magari anche la vittoria visto il ritmo di Leclerc nella seconda parte della gara magari non avrebbe vinto ma avrebbe messo in difficoltà la McLaren e Sainz poteva arrivare in zona podio quindi guadagnare punti su Red Bull e anche su McLaren invece è andato tutto un disastro un sacco di errori e adesso il mondo dei costruttori sembra quasi impossibile per la Ferrari too hot to handle l'argomento caldo del weekend e qui il linguaggio si fa scurrile sì perché cos'è successo tra Verstappen e la FIA in sostanza giovedì mattina viene pubblicata un'intervista a Mohammed Ben Solayem il presidente della FIA e in questa intervista sull'IM si lamenta del fatto che la FOM trasmetta in televisione troppe parolacce nei team radio mi chieda che io faria ascoltare una volta a Ben i team radio che avevo io con Manuel in Aurora Ascar quelli non censurati vi lo giuro il giorno che non dovrò più dipendere dagli sponsor io ve li regalo li pubblico probabilmente interverrà anche il Vaticano non lo so insomma sempre nell'intervista secondo Ben anche i piloti avrebbero un ruolo cioè non possono continuare a dire parolacce come se fossero rapper per dindirindina apriti cielo i piloti non ci stanno lo dicono in conferenza stampa in vari modi addirittura secondo Hamilton la critica ai rapper è un estereotipo anche un po' razzista perché i rapper sono quasi tutti neri allora se critichi i rapper critichi i neri mi sembra un po' forzata sto giro è Lewis secondo Leclerc invece i piloti sono adulti e ci sono delle cose più importanti di cui si dovrebbe parlare e Max Verstappen intanto mentre sta parlando del weekend di Baku in conferenza stampa si lascia scappare la parola fact parlando del bilanciamento della macchina che è un po' come dire era una merda il conduttore si scusa per la parolaccia ma gli Stewart non ci stanno penalità a Max che dovrà fare una giornata di lavori socialmente utili per la FIA pensate un po' l'ultima volta gliel'avevano data come penalità per aver spintonato Ocon a Interlagos 2018 ed era dovuto andare a una gara di Formula E per assistere al lavoro della direzione gara pensate che roba tutti i piloti criticano la punizione e stanno con Max addirittura Hamilton gli suggerisce di ignorare quella punizione e di non andare a fare i lavori socialmente utili ma la cosa più interessante geniale la fa Max durante la conferenza stampa delle qualifiche in quella conferenza stampa risponde a monosillabi a Tom Clarkson il moderatore qualunque sia la domanda lui risponde a monosillabi a volte anche sarcastici poi dopo aver spiegato al moderatore che in realtà non ce l'ha con lui chiarisce ai giornalisti che sarà disponibile a rispondere alle loro domande fuori dalla conferenza stampa ufficiale FIA e lo fa per davvero dopo in mezzo al paddock geniale una risposta ironica per nulla volgare che dimostra davvero un Max Verstappen molto maturo una risposta davvero campione e da personalità che fa bene per questa Formula 1 anche domenica in conferenza stampa Max ha dato delle risposte molto brevi soprattutto però ha fatto presente che queste dinamiche addirittura più delle vittorie o i mondiali sono proprio quello che peserà sulla sua scelta se continuare o meno a correre in Formula 1 oppure ritirarsi nel 2028 alla fine del suo contratto con Red Bull qualcosa come voler dire mi piace correre ma il mondo che c'è dietro mi fa schifo ok che cosa ne penso io? io penso che la piega che sta prendendo il mondo in generale sia ridicola al politically correct all'inclusività forzata al punto che oggi molte aziende soprattutto in America sono obbligate ad assumere persone in base al colore della pelle o al gender o al rendimento sessuale solo per rispettare degli standard senza guardare realmente la competenza della persona fino ad arrivare poi a questo la censura totale soprattutto se si pensa che i piloti di oggi la bocca non è che ce l'hanno chiusa ce l'hanno già sigillata perché nelle interviste non possono dire nulla per motivi contrattuali e per regolamento perché se tu parli male di un altro tesserato o di un organo giuridico rischiano di toglierti la licenza e quindi per paura che tu dici qualcosa che può essere interpretato come male finisci per non dire nulla quindi qual è il risultato? che quelle interviste in cui vogliamo sentire il parere dei piloti alla fine sono una rottura di palle perché non dicono nulla non possono dire nulla tutti impostati tutti che seguono il copione vi ricordate quando in MotoGP vale di sé gli tira il culo arrivare dietro tutte le domeniche? dimentichiamoci quei tempi e ora cosa salta fuori? ciliegina sulla torta? che se hai 300 all'ora in perda dell'adrenalina dici cacchio penalità vabbè allora facciamo una roba a sto punto scriviamo un copione a ogni pilota e facciamoglielo leggere le interviste mentre invece nei team radio mettiamo un doppiatore magari un attore che non so ci avrà il suo bel copione e dirà per dindirindina il pilota davanti va molto veloce facciamo un bel programma per bambini lo chiamiamo la melevisione passiamo ai nascavoti va che è meglio Magnussen 5 e mezzo rientro soft Hülkenberg 9 sbrilluccicante giù 5 e mezzo galleggia Bottas 5 anche lui Ricciardo 5 meritava un finale diverso Tsunoda 7 male al via Colapinto 8 aggressivo Albon 7 sverniciato Ocon 6 e mezzo volenteroso Gasly 5 in crisi Stroll 5 mi sa che non c'ha più voglia Alonso 8 in cima al centro Piastri 7 opaco Norris 9,8 due errori che potevano costare caro Hamilton 7 affanno in gara Russell 7 affanno in qualifica Sainz 5 e mezzo errore grave Leclerc 8 Ottima rimonta Perez 4 e mezzo Nulla di nuovo Verstappen 10 Perfetto Dentro e fuori la pista Passando alla Nazcaquiz è stato bello scorrere i vostri commenti sotto lo scorso post GP e vedere che il Nazcaquiz è stato considerato poco quanto era giusto peraltro perché le cose importanti erano altre e grazie grazie a tutti guardiamo avanti e vi lascio le domande per Austin Numero 1 Quale pilota fu trascinato fuori dalla cooldown room poco prima del podio nel 2017 2 In quali altri circuiti oltre ad Austin la Formula 1 ha corso negli Stati Uniti 3 Perché vi ne ricordate all'edizione del 2002 del Gran Premio degli Stati Uniti? Verso il prossimo GP e oltre Austin Stati Uniti Bisognerà aspettare un mese eh già un mese senza Formula 1 Chissà che Formula 1 troveremo arriveranno aggiornamenti per tutti ci sarà la sprint race i bump protagonisti come al solito insomma ci sarà da divertirsi